... Buonasera, mentre proseguono le indagini per risalire alle cause dell'esplosione che ha devastato Villa delle Rose a Sanremo provocando la morte di una donna e il ferimento dell'attore Gabriele Garco, oggi si è appreso che Garco sarà al festival. L'attore si è ripreso dallo shock e sarà a fianco di Carlo Conti sul palco dell'Aveston. In particolare in un servizio. Gabriele Garco sarà al festival di Sanremo e presenterà la Kermesca Nora a fianco di Carlo Conti, Maddalina Ghenea e Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston. L'attore si è infatti ripreso dallo shock causato dall'esplosione di Villa delle Rose, la residenza nella quale si trovava nel quartiere Solaro di Sanremo e nonostante la prognosi di dieci giorni emessa nei suoi confronti per trauma cranico ed escoriazioni multiple, i medici lo hanno ritenuto idoneo al lavoro. Garco ha passato gli ultimi giorni in un hotel di Bordighiera e ora sembra stia decisamente meglio. Intanto proseguono gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco coordinati dalla procura di Imperia per stabilire le cause della devastante esplosione che è costata la vita a Maria Grazia Guglielmetti, la madre di 77 anni del padrone della villa. Dai primi rilievi pare che la fuga di gas a l'origine dell'esplosione possa essere scaturita da un guasto del tubo flessibile collegato alla cucina. Sempre in base agli accertamenti effettuati fino ad ora, risulta comunque che la villa avesse tutte le previste certificazioni di sicurezza e che la revisione dell'impianto del gas sia stata regolarmente effettuata nel settembre scorso da una ditta specializzata che non ha riscontrato alcun tipo di problema. Mentre le piccole imprese Liguri faticano per stare sul mercato e garantire una produzione di qualità di olive e olio extravergine in Italia c'è purtroppo chi invece opera in modo illecido e senza scrupoli. Lo dimostrano alcune recenti operazioni di guardia di finanza, repressione frodi e corpo forestale. Vediamo. Mentre in Liguria le piccole imprese olivicole faticano sempre più per riuscire a fronteggiare la concorrenza e garantire olio extravergine di oliva e olive di alta qualità in altre regioni d'Italia c'è chi invece opera senza scrupoli e in modo truffaldino come dimostrano alcune operazioni compiute negli ultimi giorni da nucleo repressione frodi, guardia di finanza e corpo forestale. La repressione frodi e la finanza hanno stroncato un vasto e collaudato sistema di frode radicato in Puglia e Calabria nel settore oleario. L'operazione denominata Mamma Mia ha consentito di bloccare la commercializzazione di oltre 2000 tonnellate di olio extravergine di oliva falsamente fatturato italiano per un valore di oltre 13 milioni di euro. Sono otto gli indagati accusati di frode agroalimentare e di reati fiscali connessi a un giro di fatture false per oltre 13 milioni. Questi personaggi negli ultimi due anni hanno venduto come italiano olio proveniente da Spagna e Grecia, producendo anche false certificazioni. Forse ancora peggio quanto scoperto invece dal corpo forestale sempre in Puglia dove 18 imprenditori sono stati denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive e produzione di alimenti con aggiunta di additivi chimici non autorizzati dalla legge. Questi personaggi infatti coloravano le olive con il fine di nasconderne i difetti e utilizzavano clorofilla ramata e solfato di rame, quest'ultimo particolarmente nocivo alla salute umana. Preoccupanti sul fronte dell'artigianato in Liguria sono infatti pesanti i dati relativi alle chiusure delle imprese comunicati da Confartigianato. Vediamo. Il fronte dell'artigianato in Liguria nel 2015 sono state chiuse 9,5 imprese al giorno e il saldo tra aperture e chiusure di micro imprese è negativo di 493 unità. La denuncia arriva dalla Confartigianato che spera in una rapida applicazione del Grove Act la nuova legge regionale per lo sviluppo economico. In particolare il settore delle costruzioni in Liguria che conta 21.615 imprese all'attivo registra un calo dell'1,3% rispetto al 2014 con 285 micro e piccole imprese in meno. Stessa percentuale negativa per il manifatturiero artigiano. Nel corso del 2015 in Liguria hanno aperto i battenti 2.977 micro e piccole imprese a fronte di 3.470 chiusure. A fronte di un aumento del 4,1% delle società di capitale si assiste a una diminuzione delle società di persone individuali. Il saldo negativo fra aperture e chiusure di piccole imprese si registra in tutte le quattro province Liguri. L'unico dato leggermente positivo si registra nell'apertura di imprese manifatturiere in provincia di Liguria dove nel 2015 si sono registrate 62 nuove aperture a fronte di 54 cessazioni di attività. Vertice domani a Genoa per i responsabili delle case popolari delle quattro province Liguri. A convocare la riunione è stato l'assessore regionale Marco Scaiola che vuol fare il punto sulla situazione delle case popolari e sulla sicurezza degli edifici. Vediamo il servizio. Operare una puntuale ricognizione sulle reali condizioni di sicurezza e vivibilità del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica gestito dalle quattro aziende regionali territoriali per l'edilizia Arte sulla base delle numerose segnalazioni arrivate dall'utenza. E' questo l'obiettivo dell'incontro convocato domani alle 10.30 dall'assessore regionale dell'urbanistica all'edilizia Marco Scaiola negli uffici di Piazza De Ferrari. Una riunione in cui sono stati invitati tutti e quattro gli amministratori unici delle Arte Liguri per affrontare il tema della messa in sicurezza delle abitazioni di edilizia popolare. Gli amministratori sono stati chiamati dall'assessore a fornire tutti i dati necessari a completare un quadro esaustivo della situazione di ogni provincia. L'assessore Scaiola ha chiesto a ognuno un'analisi circostanziata di tutti gli interventi che sono stati fatti negli ultimi 12 mesi. Marco Scaiola ha evidenziato di aver voluto indire questa riunione per in quanto la sicurezza dei cittadini è di primaria importanza e per verificare di persona la situazione. E prosegue l'iter per il PSR, Piano di Sviluppo Rurale della Liguria. A Genova sono stati approvati i criteri alla base di nuovi bandi per l'erogazione di contributi. Sentiamo. Si è riunito nella sede della Camera di Commercio di Genova il Comitato di Sorveglianza del PSR, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il Comitato, costituito da circa 50 membri, compresi i rappresentanti dell'Unione Europea, ha il compito di vagliare e valutare, con parere non vincolante, i criteri di selezione e validazione di progetti di domanda e di aiuto presentati dalle aziende e dagli enti pubblici. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale all'agricoltura, Stefano Mai, che ha sottolineato che sono stati verificati e approvati i criteri e quindi i punteggi relativi alle quasi 50 sottomisure che daranno origine a circa tre tanti bandi. Mai ha evidenziato che la riunione ha rappresentato il tassello finale per l'apertura di tutti i bandi che metteranno a gara i fondi per lo sviluppo rurale, che ammontano ad un totale di 313 milioni di euro. Mentre in Piazza Muccioli a Sanremo, dopo l'installazione dei nuovi chioschi e dei fiori, è cambiato l'assetto urbanistico, in Piazza Eroi Sanremesi è ancora rimasto un chiosco che dovrà lasciare l'aria entro settembre. Il punto sulla situazione è con l'assessore all'arredo urbano, Mauro Menazzi. Come sta cambiando l'aspetto in Piazza Eroi e in Piazza Muccioli? Allora direi che la risistemazione dei piazza Eroi per quanto riguarda la parte dove c'è la statua di Siro Carli ha visto l'anno scorso la rimozione di questi chioschi che nel tempo avevano sostanzialmente chiuso la piazza e si stanno vedendo i primi risultati, nel senso che sia aperta la piazza, la gente può andare tranquillamente a girare, è resa più fruibile anche per le attività produttive che si affacciano e quindi piano piano sta riprendendo vita uno spazio che prima non era fruibile. Avete installato di recente un nuovo chiosco in Piazza Muccioli, è così? Allora, in Piazza Muccioli si sono trasferiti due chioschi, a breve seguirà il terzo e questo completamento comincia a dare un colpo d'occhio anche di Piazza Muccioli diverso, la sta rivitalizzando con i colori dei chioschi che vendono solo fiori e si sta armonizzando con il contesto, quindi comincia ad esserci passaggio di persone che vanno anche da Piazza Muccioli e quindi si riequilibria quello che poteva essere una problematica legata ai clienti che magari passano da una parte o dall'altra. C'è un chiosco da rimuovere? Allora, un chiosco è rimasto che è quello che è più verso l'autostrada, abbiamo una sospensiva del TAR che consente una discussione che avverrà nel mese di settembre di quest'anno, si è espresso nel merito anche il Consiglio di Stato con un'ordinanza che ricalca quella pressoché quella del TAR, sostanzialmente ci dice che dobbiamo completare il progetto di riqualificazione della piazza e finanziarlo per poter alla fine ottenere il risultato complessivo. Ci sono delle novità per quanto riguarda la piazza della Movida, sto parlando di Piazza Bresca? Allora, Piazza Bresca che è anche essa è una delle piazze più belle di Sanremo perché è storica, in realtà poi è Piazza Bresca, Piazza Sardi, è tutto un contesto particolare. Stiamo cominciando a mettere mano al piano d'ambito che è previsto dal regolamento dei Deor, cerchiamo di farlo noi perché il Comune ha più facilità di coordinare tutte le attività che sulla piazza si affacciano. Questo darà modo di avere uno strumento a favore sia delle attività produttive che potranno avere dei vantaggi, sia a favore degli spazi pubblici che dovranno essere rispettati. Villa Faravelli ad Imperia si appresta ad ospitare e disporre al pubblico la collezione Lino Invernizi, trasformandosi così nel Museo di Arte Contemporanea di Imperia. L'inaugurazione è programma sabato, mentre domenica si terrà l'apertura al pubblico. L'iniziativa è stata illustrata oggi dall'assessore comunale alla cultura Nicola Potestà. Sabato pomeriggio a Villa Faravelli alle ore 16 ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione permanente della collezione Architetto Lino Invernizi, una collezione di arte contemporanea di grande importanza, di grande spessore culturale e quindi noi ci teniamo molto a valorizzarla. Bisogna dire che è una collezione che è stata donata alla città di Imperia negli anni scorsi e adesso è il momento dell'esposizione. È stato preparato un allestimento degno dell'importanza dell'opera e quindi noi siamo molto soddisfatti perché pensiamo che questa esposizione possa essere un punto di riferimento per tutti quelli che hanno interesse nell'arte, non soltanto l'arte contemporanea. L'arte contemporanea sappiamo che è un'arte un po' difficile da apprezzare perché è abbastanza concettuale che comunque dà la disponibilità di una collezione di questo valore possono nascere molti interessi, molti spunti per rivolgere l'interesse delle persone anche all'arte tradizionale, anche ad altri aspetti della cultura che non siano strettamente legati all'arte. Quindi è un evento molto importante per Imperia. Devo dire che la mostra sarà aperta al pubblico domenica, tutto il giorno, gratuitamente. Quindi noi abbiamo dovuto scegliere questa formula di fare due inaugurazioni diverse per questione di capienza, non per altro. La Villa Faravelli tiene poche persone, oltretutto il tempo previsto per sabato non è dei migliori quindi non sarebbe stato possibile neanche fare l'inaugurazione in giardino e quindi siamo stati costretti a questa formula. Sabato si fa l'inaugurazione e domenica ci sarà l'apertura a tutti i cittadini, a chiunque voglia venire. Saranno visite anche guidati e sarà del personale che illustrerà le opere esposte. Il Liceo Artistico di Imperia ha collaborato a questa operazione di alto valore artistico realizzando in tempi anche abbastanza ristretti due video. Un breve documentario sulle opere presenti nella collezione che sarà poi a disposizione dei visitatori della mostra permanente e un video del backstage dell'allestimento che verrà poi proiettato durante la giornata di inaugurazione. Entrambi i video sono stati realizzati dagli studenti della quinta a indirizzo audiovisivo multimediale sotto la guida esperta del professor Tino Dolmetta che è docente di discipline fotografiche di video e montaggio. E inoltre il professor Pierantonio Gandoglia ha ideato e poi realizzato il marchio, i Deplian, la Locandina e quindi ha curato tutta l'immagine grafica della mostra. È stata un'esperienza altamente formativa per i ragazzi e anche emozionante per le ragazze soprattutto che aspirano ad un futuro professionale in campo artistico. E quindi ci auguriamo che la mostra permanente di Villa Faravelli diventa un punto di incontro e anche di diffusione della cultura artistica del territorio. Gli assessori regionali della Liguria, la protezione civile allo sviluppo economico, Giacomo Gianpedroni e Edoardo Rixi, hanno scritto una lettera alla Presidenza del Consiglio per sottolineare una disparità di trattamento verso gli alluvionati dall'ottobre del 2014 a Genova, in provincia e quelli che subirono danni, un mese dopo, in altri eventi alluvionali e in altre zone della Liguria. Questi ultimi non hanno infatti la possibilità di vedersi, riconoscere e quantificare il danno subito. Rixi e Gianpedrone chiedono quindi al Governo uno sforzo per superare l'attuale disparità di trattamento tra alluvionati che genera vittime di una palese ingiustizia. Ha aperto ai battenti in questi giorni il centro di conferimento dei rifiuti nei pressi del cavalcavia autostradale all'incrocio tra Via Artallo e Via Lorenza-Aquarone d'Imperia. Nel centro sarà possibile conferire gratuitamente batterie, ingombranti, oli vegetali esausti, residui di verde o potature, elettrodomestici e piccole apparecchiature elettroniche, oltre a residui di piccoli lavori edili domestici. L'accesso al sito è consentito ai suoi cittadini residenti all'Imperia e non alle imprese. Il conferimento è totalmente gratuito. L'area di Via Artallo sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Contemporaneamente resta attivo il punto di consegna di Via Argini Sinistro. Maxi Sequestro e di merce contraffatta Sanremo i poliziotti hanno individuato un capannone nel quale sono state trovate 10.000 paia di scarpe immarchiate con griffi fasulle. A gestire il commercio illegale pare fossero due cittadini magrebini che però non sono stati arrestati. Indagini sono in corso per individuare eventuali complici italiani coinvolti nel traffico illecito. Il vento forte la scorsa notte ha creato alcuni problemi nel Savonese lungo la Aurelia fra Albenga e Ceriale una grossa e pesante insegna stradale crollata per terra per fortuna senza causare feriti. Sempre a Ceriale i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte per una tettoia sradicata dal vento. I vigili del fuoco hanno effettuato anche numerosi interventi soprattutto nella zona di Albenga per alberi e cartelli stradali pericolanti cassonetti dell'immondizia trascinati in mezzo alla strada sempre dal vento e tegole spostate. Ancora da Albenga è stata distrutta la copertura dei campi da tennis comunali. In alcune zone di Luano si sono registrati invece delle brevi mancanze di corrente elettrica. Facciamo una breve pausa e ci sentiamo come sempre subito dopo. Dopo il concerto dello scorso anno torna domenica a Sanremo il tradizionale appuntamento organizzato da Avastera l'associazione che difende le tradizioni brigasche. L'appuntamento è per domenica alle 16 al teatro parrocchiale di San Siro con una pista e attra. Vediamo. Dopo il concerto dello scorso anno che aveva riscosso particolare successo torna anche quest'anno l'appuntamento culturale organizzato a Sanremo dall'associazione Avastera che difende le tradizioni della terra brigasca. In collaborazione con Sean Braddock nell'ambito del progetto Le lingue madri delle province di Torino e Imperia domenica alle 16 nel teatro parrocchiale della concattedrale di San Siro a Sanremo andrà in scena Vesamont verso lassù. Si tratta di una pièce teatrale musicale che vedrà in scena un gruppo misto occitano franco-provenzale. L'ingresso è libero. Appuntamento domenica a Pieve di Teco con la nuova edizione del Carnevale il Carnevale della Valle in programma la sfilata dei carri e tante maschere per una giornata in allegria. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco di Pieve di Teco Angelo Casella. Sentiamo. Ora è tutto pronto per questa nuova edizione del Carnevale? È tutto quasi pronto. Speriamo nel bel tempo. A proposito ricordiamo che se dovesse piovere a dirotto la rimandiamo al sabato successivo sabato 13. Cosa c'è in programma? C'è in programma la solita sfilata dei carri preparati dalle varie associazioni del territorio e il Carnevale ha questo valore aggiunto cioè rappresenta in maniera molto genuina veritiera la creatività di tutte le associazioni che con pochi mezzi e tanta volontà fanno queste piccole opere d'arte per far divertire grandi e piccini. Insomma un'occasione per ritrovarsi per trascorrere una giornata in allegria tutti in maschera. Assolutamente sì con quello che rappresenta lo spirito della vallata Carnevale raggruppa tutti i paesi della valle anzi quest'anno anche piccoli paesi dell'Alta Valle grazie al vulcanico Don Enrico saranno rappresentati tramite i loro bambini e ripeto con questo spirito molto molto ruspante che a noi piace molto rappresenta il nostro territorio. Ci sarà anche Baci? Certamente sì Baci mi ha detto che è in ottima forma sta preparando il grande carro che lo rappresenta con un mezzo di locomozione molto particolare ed è preparato anche quest'anno a dare spettacolo e a dare anche le sue martellate ai dissidenti. Adesso vi posso fare un'anticipazione le vuole dare agli amici di Pornasio che stanno dormendo sugli allori della vittoria dell'anno scorso e non parteciperanno quest'anno. Ricordiamo gli orari della giornata. Dalle 14.30 lungo il corso del Ponzoni lungo il corso porticato di Pieve di Teco un paio di giri con l'allegria dei carri e poi la merenda tutti assieme prima che faccia freddo e venga buio. Seconda edizione di Carnevale Andorra domenica dalle 14 alle 18 nel Palazzetto dello Sport in programma un poveriggio di giochi organizzato dal Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Andorra La Igueglia con il patrocinio del Comune di Andorra. I bambini saranno coinvolti in giochi di gruppo e laboratorio creativo. L'ingresso è libero. Il Comune di Ospedaletti ha fatto sapere che è stato presentato un progetto di fattibilità per il recupero di Villa La Sultana con destinazione teatro sala concerti e servizi complementari con una capienza di ben 2500 posti. L'amministrazione comunale si è dichiarata favorevole a questa iniziativa a volta a recuperare il patrimonio architettonico e a favorire lo sviluppo turistico-culturale la cui ricaduta non si limiterebbe soltanto a livello locale ma si rifletterebbe anche su tutto il territorio. Sabato il comando della stazione Carabinieri di Dolciacqua in collaborazione con il Comune il Centro Culturale Recreativo e la Commenda dell'Ordine Templare San Giovanni organizza dalle 17 presso la sala polivalente di Dolciacqua con entrata in piazza San Filippo la conferenza incontro con la popolazione quattro regole d'oro ovvero come prevenire le truffe. il luogotenente dei Carabinieri Pasquale Mennitto spiegherà ai presenti quali tipi di truffe vengono messe in atto dai delinquenti e quale comportamento tenere in presenza di situazioni sospette. La conferenza è aperta a tutti. Appuntamento rispettato per la seconda edizione del Festival della Legalità e delle Idee organizzato in collaborazione con i magistrati Graziella Pradella e Roberto Cavallone il Centro Impastato di Sanremo la rete Radio 100 Passi le scuole Sanremesi e che si svolge ancora una volta a Sanremo nella settimana del Festival per tre giorni dall'8 al 10 febbraio il Teatro dell'Opera accoglierà personalità provenienti da tutta Italia che daranno vita ad una tre giorni di incontri convegni e presentazione di libri. Bene, rivediamo gli appuntamenti di Riviera e Venti poi ci occupiamo di Autofiori e Quadro Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'autostrada De Fiori ha reso noto che a causa del rifacimento della pavimentazione da ovest della Galleria Costa Martina ad ovest del viadotto Rio Colmo sulla Via Francia si rende necessaria la chiusura al traffico della tratta interessata e l'istituzione del doppio senso di circolazione lungo la Via Italia. Il cantiere sarà operativo dalle 4 del 1 febbraio alle 18 del 6 febbraio salvo anticipato termine dei lavori. vediamo il quadro meteo con ARPA al meteo Liguria alle previsioni di domani venerdì 5 febbraio ancora tempo soleggiato e stabile in mattinata con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso dal pomeriggio si prevede tuttavia nuvolosità variabile per locale formazione di addensamenti nelle zone interne passaggi nuvolosi umidità su valori medi venti in prevalenza deboli variabili in mattinata nel pomeriggio da sud est deboli con locali rinforzi sino a moderati il mare sarà poco mosso ponente mosso in calo allevante dopo domani sabato 6 febbraio l'approssimarsi di una perturbazione porta sulla Liguria un deciso aumento della nuvolosità in mattinata e deboli precipitazioni sparse con isolati rovesci dal pomeriggio umidità su valori medio-alti venti da sud est in prevalenza deboli in mattinata fino a moderati nel pomeriggio con locali rinforzi in serata sul centro della regione in mare in mattinata poco mosso a ponente da poco mosso a mosso a levante nel pomeriggio in aumento anche a ponente fino a mosso bene noi ci fermiamo qui torniamo alle prossime edizioni se volete sul nostro sito imperiatv.it sui nostri profili facebook e twitter e se volete seguire imperiatv anche sui cellulari e tablet basta scaricare la nostra app gratuita grazie per essere stati con noi buona serata per la nostra app